La violenza esiste anche quando non la vediamo. Sono le persistenti storie di violenza, abusi, soprusi e ingiustizie a ricordare che l'8 marzo è un giorno di lotta, quella per i diritti delle donne e la parità di genere. Ed è per loro che all'interno della stazione dei Carabinieri di Gallipoli è stata allestita questa stanza, pensata e realizzata per accoglierle e abbracciarle nel delicato momento in cui scelgono di denunciare i propri aguzzini e le ingiustizie subite. Al suo interno tutto è curato e studiato al dettaglio. Decidere di iniziare un percorso di liberazione della violenza non è mai facile. In quel momento è fondamentale non solo l'atteggiamento delle forze, dell'operatore di polizia, ma anche e soprattutto l'ambiente in cui la donna si trova in quel momento. Un aumento delle denunce di violenza in questi casi non deve necessariamente essere letto come un dato negativo di aumento reale del fenomeno, che comunque c'è, ma anzi deve essere letto come un indice di presa di coscienza delle donne che finalmente decidono di denunciare. Il taglio del nastro proprio nel giorno dedicato alle donne è stato reso possibile grazie alla rinnovata collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e l'Associazione Soroptimist International, che distanze come questa ne ha realizzate ad oggi 221, avvalendosi anche della collaborazione di altre realtà locali. E' la seconda stanza tutta per sé che il club di Lecce realizza nel Salento per dire alle donne noi siamo con voi, ci siamo, l'Arma dei Carabinieri è con voi, avete uno spazio tutto per voi per venire a denunciare i vostri abusi. Con la raccolta fondi avviata tutti insieme è stato acquistato tutto il necessario per rendere confortevole e funzionale l'ambiente. E al momento è un messaggio verso gli inquirenti, è un messaggio verso tutti che il problema della violenza di genere c'è.